Mi chiamo Giovanni Di Marco e sono qui da luglio. Sto cercando lavoro come quadro nell'ambito del commercio. Qui mi occupo dei libri e poi l'angolo della verdura, della nostra verdura biologica. Prendo tutto ciò che arriva da fuori, per quanto riguarda i libri, faccio una selezione, naturalmente ciò arriva anche qualche cosa da buttare via che va buttato via. Per il resto, nel migliore dei modi, si dà un criterio, si sistemano. Siccome io sono un ex tipografo, figlio d'arte, nel senso mio nonno, mio padre, erano stampatori. Per cui io ho un rapporto con la carta stampata, con il libro, tra virgolette, particolare. E devo dire che qui mi ha messo alla prova perché arriva di tutto e di più. Ed è affascinante per me, perché ho un rapporto particolare con la carta stampata, per me ha un sapore di tornare all'azienda di famiglia, alla stampa, quando ero piccolo, a toccare la carta, a vedere i caratteri. C'è da dire che oggi naturalmente si legge meno, si ha un rapporto, diciamo, più freddo con il libro. Solo che io il rapporto che ho qui con la gente è un rapporto che si rinnova come quando ero in tipografia da mio padre, nel senso che qua la gente viene perché ama il libro. E allora questo mi ha interessato e mi interessa molto. Ma personalmente per me è stato miracoloso questa occupazione, miracolosa, perché mi ha dato modo di rimettermi, prima di tutto, in movimento, di avere dinamismo. Per cui finisce il giorno e tu l'hai avuto talmente completo che sei soddisfatto. Poi come ambiente, la particolarità dell'ambiente, voglio dire che qui fra colleghi tutti quanti c'è armonia, si mangia insieme, si scherza e si lavora. Qua c'è gente, tutti quanti, veniamo da tutto il mondo, si può dire. Abbiamo dei sudamericani, oltre che europei in senso lato. Ci rispettiamo assolutamente. Avere questo tipo di atteggiamento io trovo sia una ricchezza. Qui stiamo veramente, veramente bene, lavorando, sodo, ma bene.